Foggia TV, canale 99 del digitale terrestre e streaming sul sito www.foggiatv.tv Seguici anche sulla nostra pagina Facebook, info 0881 75 16 32, Whatsapp 351 15 45 118 Foggia TV, la capitanata, i suoi protagonisti Chi ha fatto la risintonizzazione del televisore per cercarci ci ha trovato regolarmente oggi sul canale 99 Oggi è partita la nuova era televisiva, Foggia TV è nei mux della RAI Significa che dove arriva il segnale della RAI arriverà anche il segnale della nostra emittente Siamo partiti con la parte alta della Puglia, riaccesi i ripetitori di Montesambuco Domani toccherà ai ripetitori del Gargano, di conseguenza copriremo tutta la provincia di Foggia Compreso il promontorio del Gargano Dopo questa comunicazione di servizio i nostri titoli di apertura di oggi, giovedì 7 aprile Quarta mafia, primo nemico dello Stato Il rapporto semestrale della direzione investigativa conferma la pericolosità del crimine foggiano E le infiltrazioni nella pubblica amministrazione Il futuro è rinnovabile, Confindustria spiana la strada della transizione ecologica Principale obiettivo tra i progetti del piano di ripresa e resilienza Gargano, nuovo modello per il turismo, offerta congiunta di tutte le aree del promontorio Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo, lancia la sfida Monti Dauni è il tempo della svolta, storica occasione con i fondi europei Tra gli obiettivi ripopolare i piccoli comuni Nuovo consiglio di amministrazione del Foggia Calcio Nel nome del padre e del figlio Nicola ed Emanuele Canonico al vertice, fuori la famiglia Pintus Cominciamo con la lotta alla mafia Nel rapporto semestrale della direzione investigativa antimafia si conferma la presenza della quarta mafia Ma si conferma soprattutto la pericolosità e le infiltrazioni nella pubblica amministrazione Il servizio di apertura è di Roberto Parisi Traffico di droga con i consolidati rapporti con l'Albania che importa cocaina dalla Colombia Infiltrazioni nella pubblica amministrazione, estorsioni, omicidi La criminalità organizzata pugliese ha un peso specifico che emerge dalla relazione della direzione investigativa antimafia Relativa al primo semestre 2021, resa nota nelle ultime ore Ed in particolar modo è la cosiddetta quarta mafia foggiana ad attirare l'attenzione del lavoro della DIA Come sottolineato più volte dai vertici della direzione antimafia Indicando la criminalità foggiana come nemico numero uno dello Stato, almeno in questo momento Lo scioglimento del Consiglio Comunale di Foggia per infiltrazioni mafiose Si ricollega ad un passaggio importante nella relazione dove viene messo in risalto come si tratti di mafia degli affari Immersa in una pervicace, un traccio tra modernità e tradizione Gli investigatori hanno appurato come la sempre più accentuata configurazione di impresa politico-criminale dei sodalizi Comporta la necessità di acquisire quelli imprescindibili risorse sociali qualificate Che provengono dalla realizzazione di legami con l'aria grigia Attraverso la quale gli attori mafiosi possono esprimere al meglio la loro governance imprenditoriale del territorio In poche parole, la mafia foggiana si sta evolvendo e dove non riesce a penetrare nel sistema Per condizionarlo anche attraverso la corruzione Sempre più presente in una società predisposta a logiche clienterali Allora passa all'intimidazione Non solo Foggia ma anche altre zone della Capitanata vengono attenzionate Come ad esempio Sansevero, la zona ofantina ed il Gargano Una lente di ingrandimento che evidenzia ancora una volta la pericolosità della criminalità locale Sempre più organizzata, tanto da assomigliare ad un'azienda commerciale Nella lotta al crimine organizzato ricordiamo che ci sarà un cambio al vertice della polizia di Foggia L'attuale questore Paolo Sirna è stato promosso per ricoprire un prestigioso incarico a Roma Al suo posto, metà giugno, arriverà il nuovo questore Si tratta di Ferdinando Rossi, attualmente è a Brindisi E a Brindisi è dal 2019 Ferdinando Rossi ha 54 anni ed è originario di Nocera Inferiore Adesso i progetti per il futuro per sfruttare la grande occasione del PNRR Sulla strada della transizione ecologica Il futuro, anche il futuro della Capitanata, è rinnovabile Il futuro è rinnovabile sulla strada della transizione ecologica La principale, quella più larga del piano di ripresa e resilienza Quella che più delle altre annuncia la pioggia dei finanziamenti europei In Puglia e in Capitanata la sta spianando Confindustria Nel nuovo corso dell'Associazione degli Industriali, targato Giancarlo Di Mauro L'obiettivo delle rinnovabili è il principale L'obiettivo delle rinnovabili è importante raggiungerli Perché la norma, le leggi, i regolamenti europei ce li impongono Ma noi oltre a questo, il mio dire da un anno a questa parte È quello di dire che il nostro territorio potrebbe diventare la California del Sud Il problema è che in Puglia si produce più di quello che serve alla Regione Però non deve essere una parte negativa questa Anzi noi diciamo, approfittiamo, questa è un'opportunità Dove anche la Puglia potrebbe eccellere nella produzione in surplus di quello che serve Però occorrono benefici ai territori più di quelli che hanno altri Che non vogliono nei loro territori gli impianti industriali Su questo credo che ci sia un'affinità con il volere della Regione È chiaro che bisogna spingere e velocizzare un attimino questa richiesta Se le leggi nazionali non lo permetteranno Dobbiamo iniziare a fare delle proposte noi pugliesi E noi di Capitanata, che siamo forse il settore più imbegnato su questo fronte Rinnovabile uguale ricchezza del territorio Su questo noi spingeremo al massimo Allora, avete sentito? Rinnovabile uguale ricchezza del territorio Significa comunque anche incrementare la forza lavoro E dunque creare nuovi sbocchi occupazionali Dalle rinnovabili ma soprattutto dal Gargano È un territorio che cattura un flusso turistico straordinario ogni anno Soprattutto sullo promontorio del Gargano E proprio dal Gargano arriva un nuovo modello del turismo Per incrementare sempre più i flussi Ciro Dattoli Non tutto può ruotare intorno all'aeroporto Ginolisa La provincia di Foggia sconta carenze infrastrutturali E soprattutto l'assenza di una progettualità espansiva Per la risorsa chiamata turismo Il turismo dovrebbe essere il motore principale di sviluppo Di questo nostro Gargano, della Capitanata in generale Finquanto tutte le città, tutte le città di Capitanata Quelle più importanti e quelle meno importanti Che hanno patrimoni straordinari Di biodiversità, di monumenti eccetera Non cominceranno a ragionare insieme Andremo tutti per compartimenti stagne Non approfitteremo di tutte le cose belle e positive Che tutta questa parte di territorio può offrire Operatori turistici, imprenditori del settore Forze sociali lamentano la mancanza di un vero e proprio Modello Foggia di sviluppo turistico Il modello che io propongo è un modello più grande Più armonico e più di collaborazione tra tutti gli enti Per promuovere in ragione anche del 2025 Che è l'anno del giubileo In ragione di questo grande appuntamento Far trovare questo territorio armonicamente sviluppato E proiettato verso almeno questo piccolo Intervallo medio di programmazione Restiamo sul promontore del Gergano Quest'anno sarà potenziata anche la rete della sicurezza A Vieste c'è stato l'evento organizzato dal Comune Per sensibilizzare i giovani sul rispetto delle norme Del codice della strada Con l'intento anche di prevenire gli incidenti stradali Che vedono coinvolti particolarmente i ragazzi Presente all'iniziativa la Lamborghini E il pullman azzurro della Polizia di Stato Che insieme al personale della Polizia stradale Hanno visto coinvolti oltre 600 ragazzi Provenienti da istituti scolastici Di ogni ordine e grado Dal Gargano ai Monti Dauni Un'altra zona da valorizzare L'occasione è sempre la stessa I fondi europei del piano di ripresa e resilienza I sindaci dei 29 comuni delle aree interne Si sono ritrovati il 10 marzo a Troia E ne hanno parlato con il governatore della regione Puglia Michele Emiliano Hanno presentato il programma per valorizzare la zona E ripopolare i piccoli comuni È il tempo della svolta per la riqualificazione Viabilità, arredo urbano, artigianato E turismo delle aree interne della Capitanata Ora o mai più Perché l'Europa non avrà poi le mani così larghe La pioggia del PNRR bagnerà anche le colline della Daunia Ultimamente però ci stiamo impegnando molto Per intercettare fondi E mettere le basi Per uno sviluppo sostenibile del nostro territorio In questi anni alcune cose sono state fatte Io ricordo la viabilità di 4-5 anni fa Ed era una delle viabilità peggiori che c'era nella Puglia Ora ovviamente non dico che è la migliore Però in questi anni 45 milioni sono stati investiti sulle strade dei Monti Dauni Qualcosa sarà pure stato fatto Pronti per spendere al meglio le risorse europee Per valorizzare il tesoretto pugliese dell'Italia minore Ripopolare i piccoli e suggestivi borghi Noi abbiamo fatto un'analisi dei fai bisogni Che abbiamo nei Monti Dauni Le abbiamo sintetizzate in pillole In un programma di 10 punti E abbiamo sottoposto al governatore Aspettiamo di discutere punto su punto Con i vari dipartimenti Per capire quali sono le risorse Che riusciamo a drenare direttamente e indirettamente Verificare tutto con il governatore Sentite la vicinanza della regione? Allora noi non sentiamo la lontananza Sentiamo il 10 di marzo Il governatore, il vice governatore Alcuni assessori sono venuti a Troia E ci hanno incontrato Ci hanno ascoltato Bene hanno fatto a non fare promesse Perché chiaramente non c'è da fare promesse Ma c'è da fare del lavoro Noi insieme a loro ci siamo messi già al lavoro Abbiamo già incontrato alcuni dipartimenti E stiamo scrivendo quella che è la storia Che verrà declinata nei prossimi mesi Dal Gargano ai Monti Dauni Alla città capologo di provincia Dunque a Foggia E qui troviamo gli sprechi Della commissione straordinaria Ma lo sanno al comune Che è cambiato l'orario Già da una settimana Più da una settimana E allora Perché accendere i lampioni Alle 4 del pomeriggio? Sentiamo Il cambio d'orario Fugga le 8 E non si tratta Di un appuntamento importante Perso per via Dell'ingresso dell'ora legale Ma semplicemente Di alcuni pali Dell'illuminazione pubblica Accesi anche alle 4 del pomeriggio Non ancora in linea Con il nuovo orario Ormai in vigore Dallo scorso 27 marzo Così ecco Un nuovo schiaffo ai Foggiani In una città Ove ricorrenti Sono le segnalazioni Per le tantissime zone al buio Con pali della luce In disuso Da tempo immemore Ecco affiorare Luci accese In orari del giorno Iperilluminati Come le prime ore pomeridiane Oggi il calar del sole Arriva intorno alle 19.30 Per oltre 3 ore Ci sono zone Con lampioni accesi inutilmente A danno economico Della città E in beffa A chi luce non ne ha Neanche di notte Sull'illuminazione pubblica Peraltro ci sarebbero Da scrivere fiumi di parole Che per non farci mancare nulla Sono anche state redatte Nella famosa relazione Che ha determinato Lo scioglimento del comune Per infiltrazioni mafiose I soldi ci sono 50 milioni di euro Pronti per essere usati Ma quando? Non è dato ancora saperlo In una città Che cerca di scovare Il puntino di luce all'orizzonte Alla fine del tunnel Del degrado In cui versa da ormai Troppo tempo Ecco che di luce C'è chi ne ha troppa E chi Nonostante soldi stanziati Continua a non averne Restiamo a Foggia Non si arrendono Alle famiglie Di fronte Alla chiusura Delle scuole materne e comunali Decisa Dalla commissione straordinaria A di consum Continua a raccogliere Il malcontento La chiusura è un atto Che consideriamo Un vero e proprio attentato Alla tenuta sociale Della comunità foggiana Lo dice Giovanni Delia E' il presidente Della di consum Di Foggia Le famiglie ci chiedono Di non arrenderci E noi Non lo faremo Perché E' un controsenso Sbandierare Impegni a favore Della legalità Dello sviluppo Della crescita E dell'inclusione Della città E poi sopprimere I presidi basilari Gli avamposti Del tessuto sociale Dice Delia La comunità ucraina Ringrazia Dauna Naturalmente ringrazia Attraverso Attraverso i microfoni Del nostro telegiornale Per la solidarietà E l'accoglienza Che la provincia di Foggia Sta dimostrando Durante questi mesi Questi giorni Drammatici Della guerra Sentiamo la testimonianza Raccolta Da Ciro Dattoli Abbiamo Raccolto Tanto Stanno aiutando Tante le persone Tanti cittadini Non aspettavo Di tutto quello Aiuto Non aspettavo Che le persone italiane Anche hanno Proprio il cuore E l'anima Per gli ucraini Aiutano Raccoltano E stanno vicini Stanno vicini Che notizie hai Di come sta andando In Ucraina Hai dei parenti In Ucraina Io Ce l'ho i parenti Che la mia sorella Rimasta là La mia città Per il momento Non era colpita Ancora Però ieri Hanno mandato Un missile E proprio Dalle sue parole Che lei mi era contato Quando vedeva Lei vedeva proprio E ha detto che Un sentimento Che non Non si può anche riscrivere Tra la paura E anche Non sai Cosa fare Cosa aspettare Di tutto quello Che può succedere Ancora Io spero Che Finisce tutto Credo E spero Che Grande aggressore Capirà Che non È sbagliato Che non si deve fare Dobbiamo vivere tutti in pace Ma ce l'hai ancora Il sogno Di tornare in Ucraina Per me Italia Ormai è diventata Come Seconda patria Però Se Dovesse succedere Qualcosa Ancora più grande Io vado a fare Con croce rossa volontaria Ok E così Non 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 rimango Con gli occhi chiudi Continua A piegarsi La curva Del covid Diciannove Scende Ancora il numero Dei nuovi casi Positivi La discesa è cominciata All'inizio Della settimana Ad oggi Rispetto Alla precedente Abbiamo già circa Cinquemila Casi In meno Ieri Cinque Sette Settantatré In tutta la Puglia Sei Ottantasette In provincia Di Foggia E andiamo In provincia Di Foggia In un Centro Del Gergano Dove Su un campo Di calcio Di terza Categoria C'è stato Un episodio Di violenza L'arbitro Ha concesso Un rigore Nei minuti Finali Della partita Ed è stato Praticamente Aggredito Ed è scattato Il daspo Per l'allenatore E il direttore Sportivo Arrivato il daspo Da parte Della questura Di Foggia Ad allenatore E un direttore Sportivo Di terza Categoria L'ultima Categoria Di tutto Il calcio Dove A giocare Si dovrebbe andare Per puro divertimento E invece Il 30 gennaio Scorso Durante Gargano Academy Bianco Fiore San Giovanni Rotondo Un calcio Di rigore Al novantesimo Per la squadra Padrona di casa Che al momento Era sotto Uno a due Diventa la scintilla Di uno scatto Dira dei dirigenti Della squadra Ospite Che hanno Rincorso L'arbitro Per tutto il campo E lo hanno Minacciato Ed aggredito Così si legge Nel dispositivo Della questura L'arbitro Un giovanissimo Emanuele Manta Sospese la gara Perché fu costretto A chiudersi Negli spogliatoi Oggi Il dispositivo Del questore Paolo Sirna Che vista La condotta Violenta Dei due dirigenti Che ha determinato Pericolo Per l'ordine pubblico Ha imposto Il divieto Di accesso Ad allenatore Direttore sportivo Per due anni In tutti i luoghi Italiani ed esteri In cui si svolgono Manifestazioni sportive Calcistiche Vediamo La nuova gradinata Dello stadio Zaccheria Di Foggia Colpo d'occhio Davvero Straordinario Completati I lavori Ecco la scritta Foggia Che domina La struttura E dunque La culla Del calcio Foggiano Naturalmente Ci saranno Circa 11 Può ospitare La gradinata Circa 11.000 Spettatori Vi ricordo Che Foggia Tornerà A giocare Allo Zaccheria Lunedì sera Contro il Catanzaro E in vista Della partita Sentiamo Tiziano Enrichiello Il calcio Foggia Ha da ieri Un nuovo consiglio Di amministrazione Che è stato Nominato Dopo la riunione Dell'assemblea Dei soci Che si è tenuta L'altra sera Come già ampiamente Annunciato Dopo l'azzeramento Del precedente CDA Il nuovo consiglio È composto Dal presidente Nicola Canonico Dal figlio Emanuele Che va a coprire La carica Di vicepresidente E Silvestro Carbotti In qualità Di amministratore Delegato Estromessi I soci Di minoranza Maria Assunta Pintus Ed il figlio Edoardo Chighine Una decisione Che seppur nell'aria Conferma La rottura Esistente Tra i soci Ne inasprisce I rapporti E lascia presagire Che i colpi Di scena A livello societario Non siano ancora Terminati Intanto La formazione Di Zeman Prosegue Nel programma Di preparazione In vista Dell'impegno Che vedrà I rossoneri Affrontare Lunedì sera Nel posticipo Serale Il catanzaro Di Vivarini Che sarà di scena Allo Zaccheria Nel primo Degli ultimi Tre turni Della stagione Regolare Il primo Di tre scontri Diretti consecutivi Per rincorrere Un piazzamento Playoff Migliore Dell'attuale Settima posizione La rincorsa Al momento E sulla Virtus Franca Villa Cui il Foggia Farà visita Nella giornata Di sabato santo Da valutare Le condizioni Di Alexis Ferrante Che è l'unico Della rosa A destare Qualche preoccupazione Sul recupero Per la sfida I giallorossi Calabresi Il problema Al bicipite Suggerisce Lo staff medico Di decidere Sull'eventuale Impiego O meno Per non rischiare Di perdere Il calciatore Per più tempo In vista Del finale Di stagione Si attendono Novità Anche sulle condizioni Del portiere Fabrizio Alastra Per il resto Dovrebbero essere Tutti a disposizione Del tecnico Boemo In casa Catanzaro Gli unici problemi Riguardano Il reparto Di difesa Che dovrà fare A meno Di Martinelli Che sconta La seconda Delle due giornate Di squalifica E molto probabilmente Anche Di Fazio Alle prese Con un infortunio Che lo mette In serio dubbio Per lunedì sera Due perni Della difesa Catanzarese Che ha sofferto Spesso le assenze Dei titolari Di reparto Ci è attesa Anche per il ritorno A Foggia Da avversario Di Pietro Iemmello Che non si è lasciato Bene con la tifoseria Rossonera Dopo la retrocessione Dalla serie B Designato anche Il direttore di gara Del match Con il Catanzaro Sarà il signor Giuseppe Collu Della sezione AIA Di Cagliari Lo abbiamo ricordato In apertura Lo facciamo anche In chiusura E vi ricordiamo Che da questa mattina È partita La nuova era Televisiva Dunque con La nuova Frequenza I nuovi Numerini Foggia TV È stata riconfermata Sul canale 99 E illuminerà L'intera provincia Di Foggia Tutta la Puglia E tutta la Basilicata E ringraziamo Tutte le persone Che ci hanno dato Una mano Per raggiungere Questo importante Traguardo Anche per quanto riguarda L'informazione Del territorio Perché il marchio Foggia Il marchio Capitanata Lo porteremo In tutta la Puglia E in tutta la Basilicata Con una nuova Programmazione Naturalmente Partiremo Con la copertura Dell'intero Promontorio Del Gargano Vi ricordo Che questa mattina Sono stati Riaccesi È stato switch off Nelle postazioni Della RAI A Montesambuco Dico RAI Perché Foggia TV È stata inserita Nei MOOCs Della RAI Significa che dove Si vedrà la RAI Le reti RAI Si vedrà anche Foggia TV Domani Switch off Nell'altra postazione Della RAI Sul Gargano E dunque Copriremo L'intera Provincia di Foggia E poi Si scenderà Fino a Santa Maria Di Leuca Successivamente Ma entro L'11 giugno Sarà coperta Anche La Basilicata Vi consiglio Dunque Di Fare In questi giorni La Risontanizzazione Ringrazio dunque Tutte le persone Che ci hanno Aiutato Per Per questo Traguardo Importante Ieri Avevamo Dimenticato Rocco De Paulis È un operatore È un innamorato Della televisione Beh Lui Nell'estate Di due anni fa Ci ha dato Davvero Una grande mano Per mettere su Foggia TV E noi Naturalmente Lo ringraziamo Rivediamo i titoli Quarta mafia Primo nemico Dello Stato E il rapporto semestrale Della direzione Investigativa Conferma La pericolosità Del crimine foggiano E le infiltrazioni Nella pubblica Amministrazione Il futuro È rinnovabile Confindustria Spiana la strada Della transizione Ecologica Principale obiettivo Tra i progetti Del piano Di ripresa E resilienza Gargano Nuovo modello Per il turismo Offerta congiunta Di tutte le aree Del promontorio Crisetti Sindaco Di San Giovanni Rotondo Lancia la sfida Monti Dauni È il tempo Della svolta Storica occasione Con i fondi europei Tra gli obiettivi Ripopolare I piccoli comuni Nuovo consiglio Di amministrazione Del foggia calcio Nel nome del padre E del figlio Nicola Ed Emanuele Canonico Al vertice Fuori La famiglia Pintus Grazie per averci ascoltato Grazie per averci ascoltato